Dove sta Alex? Sta arrivando! Eccolo qui! Un applauso Alex Polidori! Allora, si sale? Vieni qua al centro Alex! Allora, eh beh... Buonasera a tutti! Allora, che dire, che dire? Abbiamo passato un sacco di anni insieme e spero che adesso, come dire, non ti vorrei vedere se non in video facendo tante cose. Io ti auguro tantissima fortuna. Ha frequentato l'Istituto Santa Maria ma nel frattempo ha fatto un sacco di cose. La voce originale in italiano di Nemo, non gliela faccio fare perché l'ha fatta migliaia di volte e poi soprattutto negli ultimi anni diceva però insomma la voce mi è cambiata, sono diventata tutto. C'è stata un'evoluzione anche in questo. E quindi adesso invece stai doppiando un'altra cosa, dici. Adesso sto doppiando, vabbè, molti cartoni che vanno su Disney Channel, Disney XD, Nickelodeon, sono tanti canali per ragazzi e poi ho appena doppiato un film molto importante che si chiama Trash che è un film drammatico che parla delle favelas, insomma un bel film. Se vi capita andatelo a vedere. Faccio uno dei protagonisti e poi insomma continuo, mi piace cantare, tra tutte queste cose mi piace cantare. e oggi vi vorrei far sentire qualcosa. La voce e il cuore di Alex Polidori. Grazie. 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 Just leave me alone Yeah, oh Just leave me alone Yeah Just leave me alone Just Just leave me Just leave me Just leave me alone Yeah Got a right, got a right Con le mani! Got a right, got a right, got a right I got a right to be wrong Grazie! Grazie a tutti! Alex Polidori, grazie! Grazie a voi! Che bello, un bacio! Grazie! Che ci ha emozionato davvero, noi siamo dietro le quinte che balliamo, ci divertiamo, cantiamo, ci abbracciamo, ogni tanto bisogna menargli perché bisogna spegnerlo Certo! Questa era Right to be wrong di Joe Stone, non l'ho detto prima quindi volevo dirlo che è una bellissima canzone Ci è arrivata, ci è arrivata, ci è arrivata Grazie di tutto, allora buona serata e mi raccomando ascoltate questi ragazzi che sono bravissimi veramente Grazie a tutti E questo è per voi All'istituto Santa Maria e tutti i dirigenti professori che mi hanno voluto qui e mi hanno aiutato anche a crescere quindi grazie di tutto E sei cresciuto bene, perciò ti ringraziamo anche noi, grazie Alex! Grazie a tutti